Dal mio punto di vista il nodo della valorizzazione, della riproduzione che tu cominciavi a mettere in campo è fondamentale anche per pensare a come è stata gestita la crisi legata alla pandemia nel suo momento di picco e alle risposte che si stanno adesso articolando soprattutto a livello europeo, quindi delle istituzioni e poi a livello invece di una ristrutturazione del capitale in senso più ampio. Pensando anche semplicemente all'esperienza che abbiamo avuto noi in Italia per esempio di come è stata gestita la pandemia mi pare che in qualche modo si incarni il ruolo che è stato attribuito alla riproduzione all'interno dei rapporti anche di potere che costituiscono i rapporti capitalisti. Perché da un lato, per esempio all'inizio abbiamo tutti visto come la produzione intesa in senso stretto anche se vogliamo più banalizzante, cioè il lavoro in fabbrica, l'andare sul luogo del lavoro in quelle circostanze dove la produzione di valore avviene in modi più formali, più tradizionalmente intesi è stata quella che è stata protetta fino a che è stato possibile, quindi è stata anche socialmente valorizzata in qualche modo. Mentre tutto l'aspetto della riproduzione nel senso del lavoro domestico, dell'educazione per esempio dei bambini che sono dovuti rimanere da subito chiusi dentro le mura di casa, eccetera, è stato subito svalorizzato cosa che in qualche modo secondo me incarna questa logica che sta anche un po' alla base del funzionamento della produzione di valore, dell'estrazione di valore dal lavoro nel capitalismo cioè il discorso di costruire la sfera della riproduzione e della cura come un qualcosa che appunto non ha valore quindi di infinito di gratuito a cui si può attingere ed estrarre senza problemi da tenere in secondo piano nascondendo in qualche modo in realtà il ruolo centrale che tutte queste attività di riproduzione e cura hanno nella produzione di valore. Dall'altro lato però quello che sta succedendo, ha cominciato a succedere abbastanza rapidamente e sta succedendo sempre di più è che questa sfera della riproduzione e il discorso per esempio della salute, della sanità ma anche dell'intervento ambientale, dell'ecologia appunto pensando al Green New Deal di cui ha parlato anche Stefania prima eccetera eccetera come risposta alla crisi pandemica si stanno articolando proprio in questo discorso di valorizzazione quindi inserimento diretto dentro i circuiti del valore capitalista. Quindi dal mio punto di vista qui si articola quasi un rapporto comunque uno spazio contraddittorio per le attività e il lavoro di riproduzione e di cura perché proprio quelle sfere che in teoria dovrebbero essere semplicemente dedicate alla rigenerazione della vita, ad essere dedicate al benessere degli esseri umani, degli esseri non umani, delle collettività più che umane in cui viviamo, in realtà diventano automaticamente degli ingranaggi in processi di valorizzazione che sono alla base della crisi ecologica, della crisi sanitaria per esempio se noi pensiamo al fatto che uno degli elementi che ha prodotto effettivamente la crisi sanitaria nel contesto della pandemia è stato il fatto che la sanità per come era stata man mano sottoposta a dei principi di mercato di finanziarizzazione eccetera è stata incapace di rispondere alla pandemia di fondo a questo momento diciamo di difficoltà legato al virus nel momento in cui quello che menzionavi prima l'immissione di liquidità da parte delle istituzioni verso la sfera pubblica nell'ottica della valorizzazione della riproduzione, della cura, quindi dire boh investiamo nella sanità investiamo nella tra virgolette riconversione ecologica vengono comunque definite all'interno di un paradigma di produzione di valore e quindi di crescita, di rilancio dell'economia e di valorizzazione quello che succede dal mio punto di vista è che questo ruolo contraddittorio in cui viene a trovarsi la riproduzione si acquisce ancora di più e infatti dal mio punto di vista questo segnala anche un po' il ruolo da un lato di rottura ma anche di intensificazione che ha costituito questo momento di crisi pandemica rispetto a delle dinamiche che già esistevano e dal mio punto di vista la sfida per i movimenti sociali è quello di restare fedeli tra virgolette all'aspetto rivoluzionario della riproduzione nonostante questi tentativi di reinserire il lavoro di riproduzione le attività di riproduzione o comunque anche tutto appunto il discorso ecologico all'interno di un'ottica di invece produzione del valore per l'espansione, l'aumento del capitale e quello su cui forse è interessante ragionare in quest'ottica è quello della logica della riproduzione quindi dire noi vogliamo cercare di praticare la riproduzione fuori dalla logica della produzione di valore e invece riportarla dentro delle pratiche che abbiano come fine la vita stessa il benessere e riprodurre l'esistenza alla vita in un senso anche di realizzazione della vita stessa ed ecco forse la grande rivendicazione a questo punto sarà quello di dire tutta questa opportunità tra virgolette che viene dall'immissione di nuova liquidità nel pubblico sarà quella di dire questo è un esempio per esempio proprio quello del reddito universale in che modo tutte queste potenzialità possono essere sottratte a una loro reimmissione dentro dei circuiti o dei processi di valorizzazione e invece messi a servizio della produzione di spazi e attività e tempo liberati e autonomi che comincino secondo me in questo contesto a costruire delle alternative anche concrete ad un'economia diciamo basata sul valore questo chiaramente implica anche un ripensamento del lavoro in quanto appunto il lavoro può cominciare a essere ripensato al di fuori dell'economia capitalista e delle logiche dell'economia capitalista e quindi della produzione e messo a servizio invece degli esseri umani e non umani e del loro benessere grazie 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 grazie